E una ragazza di Giro, di Vigna, di una fidanzata, sapeva che doveva andare a un certo matrimonio e allora aveva visaggio con cutelli perché lui voleva trovarlo, a quel punto era un terrorista, lei poteva andare bene e allora però si spassa la voce, lo hanno saputo, questa faccenda qua a Vigna non c'è andato, avevano preparato quando l'hanno preso con cutelli in Vigna, se l'ha fatto portare in sufficio, poi gli ha messo la pistola e poi gli ha messo la pistola così, prendi, se volete farlo in un pasto, un pasto, un pasto, prendi la pistola e se mi volete dire che il Prato non sapeva se era carica, mica si carica, questo non è essere formato Ma scusa Renzo, ma Pierluigi Vigna è il monso di Firenze? E' stato accusato dalla moglie e anche dalla moglie di Calamandrei, farmacista di San Cassiano Chi disse Dignia spara e mio marito taglia, disse così prima che una morì e l'altra a cui io è internata di diventare il CSO?